A registrare. Ok, niente, partiamo. Te l'ho detto, ognuno di noi ha due azioni. E la nostra missione è chiudere i portali. Tutto lì. Ok, quindi io sono nella guida e adesso posso decidere di andare avanti con la macchina fondamentalmente. Sì, un attimino solo che guardo qualche regola speciale. Ah, per chiudere i portali bisogna tirare quattro o più. Ok. E ve l'ho detto, i fantasmi quando li sparate e non li colpite fanno un'azione. Si muovono, fanno qualcosa del genere. Quindi, vai, ve pure. Allora, faccio tipo, uno. Sì. Due. Sì, tre. Quattro. Quattro. No, sul marciapiede no. Ah, ok. Cinque. Che cassa della scala. Praticamente vai avanti, eh. Ho solo tanto timore di questo qua, ma vabbè, vedremo. Ok, è fatto sei con la prima azione. Ok. Esatto. Quindi c'hai un'altra azione, perché ce ne abbiamo due a testa. Ah, sono sei e sei. Ah, cavolo. Sì, sì, è con la macchina, sì. Due. Tre. Quattro. Ok. Posso fare anche cinque e girarmi dall'altra e far sei, immagino. Sì, sì. Ah, no, c'è un muro. C'è un muro rosso, non ci può andare, non ci può passare qui. C'è un muro giallo. Ah, ok. Per girarsi qui ci sono delle regole. Tipo se mi vuoi girare. No, 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 no. Però vabbè, siamo arrivati lì. Ok. Io andrei qui, però. Ok. Perché almeno sono di una casa da più lontano dal Gorgone. Galopante. Galopante. Ora, con questo dado qui di chi è, qui sopra? Non lo so. Ermi, non so perché sto cazzo di gioco è laggare. Te lo fa prendere ora. Allora, ora con l'azione gratuita possiamo scendere di macchina, però ti ho ovviamente l'interelle finito le azioni. Comunque, per primo scenditi, fai scendere i tuoi personaggi e poi io faccio scendere il mio. Mi piace qua. Le puoi far scendere così. Non le puoi far scendere sul retro della macchina, ovviamente. Sì. Puoi spendere qui dove va? Col soccente. Ok, ora. Lui dove lo metti? Lì. Ora, si può sparare a distanza linea di visuale di tre. Ok? Ok. Massimo di tre. Il fantasma uguale ti può attaccare massimo a distanza tre. Ovviamente il flusso protonico dello zaino, se il fantasma si dovesse allontanare più di tre, o te ti allontani più di tre, lo perdi. Si stacca. Capito? Perché ovviamente è la distanza. Come se fossi lì, ok. Massimo a tre di distanza, se no lo stacchi. In più, se te stai sparando addosso a un fantasma e gli hai messo, che ne so, già un marker del flusso protonico e poi ne attacchi un altro, tutti quelli che erano su lui li perdi, eh? Capito? Perché ovviamente stacchi da lui e attacchi un altro. Non ne può ottenere due. Cioè, il flusso. Ok, quindi ora te la visuale ce l'hai, sia sul portale che su lui. E c'hai due azioni. Quindi io potrei attaccare lui e poi attaccare il portale. Esatto. Allora, il portale lo colpisci col quattro o più. Il problema è che la prima missione che è questa qui che ti dice è per chiuderlo due raggi. Quando lo manchi, spona automaticamente un fantasma, quando manchi il portale. Se invece spari a lui e lo colpisci bene, lo colpisci col tre o più. Se invece lo vai a mancare, mancandolo si muove di due in una direzione casuale. Allora, io prima proverai a provare... Anche perché bisogna passare di livello, eh? Se no... Ah! Ricordati le tue abilità speciali. Lui che è Spengler? Sì, vediamo. Ok, Spengler praticamente dice che quando tiri... Quando tiri i dadi... Ah no, quando tiri i dadi... Proton roll game... Prendo un XP ogni volta che tiro i dadi? Io non lo voglio dire. No, ogni volta che fai uno sul proton non colpisci, però prendi un punto di esperienza. Ok. Va bene. Allora, il dadino... Sì. Prendi il tuo dado, lo tiri e lo colpisci col tre o più. Non l'ho tirato, eh, aspetta. Sì, sì, lo so. Ah, occhio a tirarlo sul tavolo che non è bloccato niente, eh? Quindi tiriamolo fuori. Allora, questo qui vale come... No, vale come sei. Quindi, l'hai colpito e ora ti faccio vedere. Prendi uno dei tuoi flussi protonici di Spengler. Sì. Prendine uno. Nel gioco vero e proprio glielo dovresti mettere in testa, però tipo mettigli lì... Siamo così... No, ma lui non lo devi spostare, mettilo lì. No, sì, volevo metterglielo sotto. Aspetta. Ah, vabbè, ma uguale, è un cammino. Anche perché gli andrebbero messi in testa, però va bene. Ora te, lui, visto che ha un solo punto ferita, lo hai preso. Quindi, prendi la pedina di quel fantasma e te la metti sulla tua scheda. Ah, ok. Tutto un gran casino poterlo fare. Te la metti sulla tua scheda, di accanto, e il flusso protonico lasciala accanto a quel mostro. Mettiglielo accanto, torna meglio. Perché serve per ricordare chi l'ha preso e chi va a fare i punti esperienza, capito? Vabbè. Quindi, mettiglielo lì. Ok, vai. Quindi l'hai preso te e per ogni flusso protonico che c'è sopra, il proprietario di quel flusso protonico prende un punto esperienza. Allora, quindi la prendo uno. Sì. Lo sbasta. Allora, vai. Ok. Ora vai te, Manu. Guarda l'abilità del tuo. Aspetta, la seconda mossa. Ah, cazzo, è vero, c'è la seconda. Vado sul portale. Vai, tira al portale. C'è la stessa colpito, c'è la cosa degli slime. Eh, sì, c'è la cosa degli slime. No. Vabbè, prendo un XP e... Allora, aspetta, aspetta. Visto che te l'hai colpito e lui era prima in questa casella qui, no? C'è la cosa degli slime, quindi ti ha insaccherato e ti prendi uno di questi che te lo metti sulla scheda. Aspetta, no. Allora, ok. Mi metto questo sulla scheda. Quindi ora, dopo c'è un'azione in meno. Ah, è vero. Ora, il portale te non l'hai colpito. Quindi praticamente non avendolo colpito, si tira questo dado rosso e si guarda sull'indicatore dove esce il fantasma. Allora, quattro, quindi esce alla destra del portale. Sì, ne esce un altro dove era prima e si prende sempre quello di livello inferiore, quindi... Questo. La galloppante, sì, questo è via. Si prende questo, quindi quello che è tolto praticamente già... Io mi prendo un punto XP, però. E te ti prendi un punto esperienza, sì. Ora potresti fare una cosa, però un attimino solo guardo il manuale che voglio dire se l'azione è gratis o no. Un attimo solo. Potrai risalire sulla macchina, scaricare il coso e tornare fuori. Ok. 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 allora le azioni gratuite che si possono fare sono quelle di montare e scendere dall'auto ok o passare un oggetto a qualcuno accanto per mettere i fantasmi dentro l'acto 1 devi per forza usare un'azione quindi comunque ora nel caso non ce l'hai vabbè scendi il personaggio è gratis quello non costa nulla ok che belli provo a catturare il gallopante che è uscito fuori ora ok allora quindi si oddio si potrebbe anche tirare sempre da dove lo ha su un cima allora tre o più l'hai preso quindi te lo metti sulla scheda e gli colleghi un flusso lascia l'abilità perchè la scheda di lei è girata di vincuant quando io ho un'esperienza quando vengo slimeato quindi in questo caso si quindi in questo caso si perchè viene slimeato ha anche rally quindi se ne piglia un altro va a due ah funziona anche con gli altri si 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 tutti quelli adescenti allora vado a tre no a due ce ne avevi uno primo e vabbè a due no io ero a zero ho fatto due punti prima come c'hai uno slime addosso con spengler uno perchè quello che hai acchiappato prima è esploso anche il tuo e ti ha fatto lo slime più quello di ore di mano siamo a due ah dici di quelli lì io passavo di sp no 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 slime questi qua e che cazzo eh punti esperienza però un ce n'hai perchè te ne sei messi due ce n'hai zero come no 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 ne ho due e quando hai tirato uno ho distrutto un coso un no rally solo quando fai uno sul dado sul proton roll eh ho fatto uno prima quindi uno per quello e hai fatto sei e poi ho fatto sei uccidendo il coso e non mi hai detto che mi dà un punto xp si ma quando lo butti dentro la trappola della macchina quindi dopo non ancora li devi esiliare quindi mi ha fatto solo uno si si ne ha fatto ne ha fatto solo uno eh mannaggia mentre invece manu eh quando vengo slimmato più ah vai allora ti piglio un punto di esperienza anche te l'hai esiliato o che hai scelto quando attacco ah no hai preso meno uno cazzo hai preso meno uno e vale da subito bravo esatto vai hai preso meno uno anche io allora stanza ah quando tolgo eh ora ve lo tolgo io a voi eh uso è perché piglio esperienza inizia a fare l'esperienza allora sì però se ci chiude portali allora visto che sto gioco valgano anche le azioni in diagonale eh però ne posso cazzo aspetta perché scendendo dalla macchina io scenderei qui però dovrei spiecare un'azione per muovermi e una per levare lo slime allora facciamo una cosa il portale si proverà dopo allora mi muovo qui con un'azione e con la seconda ne tolgo una rally che ce n'ha due a Spengler quindi mi piglio io un punto di esperienza non c'è ok ora fine del turno si tira questo dado vediamo che simbolo viene fuori allora ecco quello più brutto del gioco perfetto quando esce quel simbolo tutti i fantasmi a distanza di un giocatore si muovono verso di lui però seguendo le regole del movimento quindi partendo dai piccolini che si muovono di due ma casualmente quindi tira un dado Manu quello dei fantasmi e si guarda per questo gallopante qui no ci hanno dato loro il rosso quello rosso però soltanto quelli in distanza a visuale questo comunque a tre quindi lo deve fa sei andrebbe di due giù quindi fa uno e due ok poi tiriamo quest'altro qui questo qui accanto galoppante che è a tre uno due tre si muove di due in giù poi non ce ne sono altri a tre no l'unica a tre è questo qui che ha tre d'arrelle quindi tira il duo infernale che si muove il duo infernale move one space ah no 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 scusa non devi tirare per lui perché dice si muove di uno spazio in direzione del ghostbuster ah e poi si muove di uno in una direzione random quindi uno qui e poi e poi otto e poi ritorna di qua vai nuovo nuovo turno ma gli altri non si muovono? no solo quelli a distanza a linea di visuale a tre quelli massimo a tre da noi quindi allora tocca al jumbo jumbo allora eh cavolo qua per ah lui se consegna tre fantasmi tutti insieme prende uno più a esperienza ricordiamoci tutti insieme sì però tutti insieme il problema è che qua io non è che ora ad esempio o spari sul portale oppure visto che sei adiacente alla macchina posso passare anche sopra un altro sopra sopra un altro giocatore sì basta che non finisci l'azione nel suo però te c'è meno uno eh quindi o ti pulisci no non su Zedermore ah no Zedermore no 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 io volevo farlo lui il primo sì lui però posso passare sopra no non ti puoi fermare né sui portali né su un altro personaggio ah ok però no dico sparare al portale sopra di lui posso? no ti blocca la linea di visuale purtroppo no eh allora faccio così e poi davanti uno due ui non può sparare a lui perché c'è una linea rossa c'è il muro ah se fosse stata gialla invece sì uno e due sì quello li puoi sparare quello lì quanto va giù? quello sì con due però per colpirlo devi fare quattro più eh mancato vabbè mancato si muove di uno verso di te basta solo di uno verso di te eh più eh poi in una direzione di uno una direzione quando ho mancato cazzo è vero sì si muove di uno verso di te di uno a casa adesso ti vieni in bocca a te eh che palle mi ha smerdato no va giù no 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 vai tocca a spengler tocca a spengler allora eh se perdi tutto il turno ti pulisci se no 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 volevo eh sì dai spiega tutto il turno per pulire ok vai levati lo slime è finita è finita l'azione ok quindi tocca a mano rigo eh intanto vale sparo sul portale beh 4 c'ha mica un tot di turni sta missione no ok e e 4 dove 4 posto ah questo è V sotto ok chi è colpito eh il portale ok mettici un coso sopra il portale si chiude con due con due sì quindi ci metti un tuo coso protonico sopra vai vai e basta c'è lo slime adesso ah cazzo non te lo sei tolto ok tocca a me io con la prima azione ti vogliono due eh sì infatti ora voglio ci sparo io sperando però con la prima azione ti tolgo lo slime ok quindi ti tolgo lo slime due spari ci voglia per chiuderlo sì sì due quindi io prendo un punto esperienza ok e provo anch'io a sparare direttamente sul sul portale che dio ce la mandi buona sì porca trova allora visto ora questo qui riprenditelo e ora questo qui si chiude visto che il il portale ci abbiamo sparato un flusso a testa prendiamo un punto esperienza a testa quindi uno io e uno te e fine del turno quindi si tira il dado per i mostri vediamo cosa succede per i portali cerchio qual è il cerchio un portale cerchio non c'è quindi se capita un portale eh se capita uno chiuso each ghostbuster che trasporta uno più fantasmi li perde ne perde uno ah che bello allora chi è che ne porta uno te basta allora tiro il dado del fantasma per rally sette quindi qui va qui prendi il tuo e la metti qui mannaggia ah ovviamente il flusso riprenditelo e tira anche a te e il tuo va quattro quattro quindi a destra mezzo alla gente mezzo alla gente quindi va qui si va lì ok ok vai nuovo turno almeno un portale sei chiuso eeeh stiamo attenti a sparargli a questi qui in corpo a corpo ci smerdano tutti il problema è quello ma io sparerei aspetta però perché sto qua se vado a destra non posso non lo becco non lo becco cioè in diagonale sì 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 basta che sia tre di distanza da qua io ho tre caselle tutto intorno a me quindi potrebbe che ha re questo sì tre gittata conta sempre tre anche in diagonale uno due questo qui no perché c'è il muro ok allora però dal di qua anche se lo becchassi comunque sia ci smerderai tutti eh smerdi sì ci smerdi a noi grazie secondo me però non andrà meglio io tiro sì sul due infernale però si colpisce col quattro più quello lì puttana figliaca che sfiga quindi quindi si muove di uno verso di lui e dado tira la direzione rally vai divertiti tira quello rosso tutto tuo dai in diagonale uno dove è uno su di me allora aspetta quando passa aspetta ride perché quando passa su uno ovviamente non si può fermare nella sua casella no allora continua ad andare avanti smerda anche quello dopo ma no e va fino sulla casella libera sì quindi smerda me e smerda anche spengler bravo ma puttana mi ha smerdato e vabbè adesso muovo lui di questo mi smerdo mi smerdo è bellissimo sto gioco è tutto merda dio ok prima hai fatto danni e il secondo ah no aspetta no non ho smerdato lui ho smerdato spengler allora questa linea gialla no che vedi qui ci puoi passare attraverso tranquillamente ma ti preclude la visuale non ci puoi sparare attraverso poi con spengler invece vado no ma c'è un'altra azione Zedmur o no eh l'ha spostata ah ok era qui l'ha spostata ok era con no spengler non c'è più nulla quindi lo sposto in avanti e basta e basta fine tocca a mano io sono comunque ancora intrappolato poi no può passare anche addosso alla gente eh quindi ti potrei sì sì basta che basta che non finisci l'azione nella mia casella ovviamente ok sì sì o se no ti sarebbe impossibile allora è bellissimo e sto pensando devo essere onesto perché la missione chiude le portali ovviamente però con tutti sti fantasmi ci sono agire tutto di buono un perde un perde tempo capito perché però qua giù dentro ce n'è ancora tantissimi quindi avanti che escan tutti campacavallo allora l'unica cosa bisogna che uno di noi dopo sposti la macchina verso il prossimo portale perché sennò non si può scaricare gli zaini posso muovermi anche in diagonale sì sì allora vengo qui mi sei anche toccato ecco non c'è rimasto nessuno lì ci vado io colpisco lui rimane lì è già smerdato quindi mi ha smerdato anzi no nemmeno aspetta allora prima ti fuisco quindi lo tolgo sì sì ti fuisco grazie mille vai via quindi con l'altra azione spero con lui quindi se poi lo piglio e ci smerdà tutti ti almeno un'azione te la fai grazie sei troppo gentile attenti ci diverti a farti smerdà a questo punto è bene vai eh sì ma io piglio l'esperienza vai pigliatelo perché l'esperienza perché io quando vengo smerdato piglio l'esperienza è vero Winkman c'ha un certo c'ha un certo feeling con questa roba vai attaccagli il flusso accanto ricordiamocelo allora vai quindi hai smerdato anche me io me lo levo me lo riprendo quindi è finita l'azione eh sì e io con l'azione cosa devo fare secondo te no tu ne hai due adesso non hai smerdato ah perché lui è indotto eh non è smerdato tutti cosa devo fare ora secondo te allora o smerdì me o smerdì te no allora io faccio uno due entro in macchina e nel prossimo turno poi dopo la sposta e scusa devo mettere il personaggio di Valla Guida e dopo la sposto vai fine turno si tira il dado dei mostri vediamo un po' cosa di brutto succede no è in bilico va ritirato è in bilico su piatto allora stellina stellina non c'è portale chiuso quindi tutti noi perdiamo un fantasma cos'era fai vedere ancora basta ma dove lo leggi scusa ma dove lo leggi scusa c'è scritto qui la prima carta qua su in cima prima campagna se il portale è chiuso durante la fase dei mostri vedi ognuno di noi perde un fantasma dalla trappola però del livello più basso e esce dove esattamente Ghostbusters space quindi si tira la cosa 5 in basso a destra rispetto a te è praticamente dove lo lo tirassi fuori diciamo che come a chiapa fantasmi si fa cagare abbastanza oddio io la chiapa anche però se poi scappano però abbiamo chiuso un portale intanto appena ne comincia diciamo che a parte essere smerdati proprio per il resto si ma è colpa di rally non te lo volevo dire si appunto due personaggi effettivamente cos'è che fa sto qua vai tutto tutto vostro l'insaccheramento ah ok no c'è scritto praticamente con 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 Zedmor se io scarico tre tipi di fantasmi diversi nella macchina prendo un punto di esperienza ah si tre diversi è vero si purtroppo si che bel potere infatti fra tutti quello che è più merdoso l'hai voluto si allora niente per la prima cosa cerco di prendere questo qua però c'è anche un altro potere che sono 30 euro il giorno cioè non so se dopo l'odopo non l'ho visto questa l'ho tirata però eh non l'avete presa va bene è meglio vai no perché se no mi tocca a bip il video si no io ho capito però lasciamo ah l'ho capito anch'io adesso via vediamo 30 euro c'è idea ora questo posso spoggiarlo qui fuori no no te lo devi mettere sulla scheda e metteci il flusso ce lo metto qua ci metto il flusso ma perché lo metti lì il flusso te lo devi mettere attaccato al fantasma che fai vieni via ah giusto hai ragione è perché sennò si perde il conto dopo quando si vanno allora poi faccio la stessa cosa e attacco pure questo qua di giubangio ok di giubangio vale ops uno niente si muove di due casuale vai prego relli prego arrivo aspetta di due molto molto casuale otto otto di due a sinistra di due a sinistra ah va proprio sul portale chiuso ok bene allora ho finito adesso con spengler si ci ha insaccherato o si pulisce o c'ha un'azione sola faccio un'azione ok vero e attacco sto gallopante qua mancato di due casuale qual'era che ha attaccato quello sopra il portale ok volevi rismerdarmi 4 2 a destra quindi va di là ma ti decidi vai chito che mano sì sì detto questo mi pulisco però questo me lo tengo lì perché sicuramente poi attaccandolo mi rismerdo quindi mi so pulito ora lo attacco con la seconda azione ma là arrivo alla merda tanto te ci pigli punti di esperienza appunto no ritira l'ammodino ritira sembra si bacia attacco varcosa vanno tiridati vabbè sempre uno è risultato vai tirare il dado vediamo cosa dici sarà giù sei giù oh va dal rally puttana miglia allora fa due li passa sopra e va nella casella dopo adesso si è smerdato vai ha smerdato zedmor è un cazzo spettacolo sto gioco mi ha fidati lo slime vai tiè tiè vabbè dopo questo voglio giocare al gioco quello lì di andare a cesso quello lì che hai detto teo dopo questo ormai dopo questo è dopico e meno male potrebbe arrivare anche il marinaio gigante quello è peggio cosa sarebbe tanta roba allora tocca a me che non sono più smerdato mi sembra no invece sono smerdato di che palle no perché è top uisto e poi sono smerdato allora visto che sono sull'ecto one qua giù dietro vabbè giro così ovviamente una casella è presa faccio uno due tre l'abbasso 3 sì sì non muoio 3 4 5 e 6 vai tanto comunque abbastanza vicina o forse è meglio vi però c'è il fantasma sul gas e no non posso muovermi in diagonale quello è il problema con la macchina vabbè faccio così sul gas ti puoi fermare o no sì sì ti puoi fermare cioè ti blocca la visuale l'unica cosa e scendo col personaggio stance e lo metto qui vai fantasmi si ritira il dado ah non è più un è vero non è madonna madonnina allora tutti quanti quelli a distanza tre da qualcuno devono muoversi quindi iniziamo prima con quelli più semplici tiriamo il dado per questo praticamente tutti tiriamo il dado per questo qua su accanto al portale ok uno allora no no rimane lì rimane lì perché non può uscire dalla mappa poi quest'altro qui tanto li tengo io segnati fa due quindi ti rismerda un'altra volta quindi non fai vai mettiti un altro slide questa la macchina devo essere scivoli quant'è sette sei di qua sei o sette sette no è uno ah è uno cazzo e passa la macchina passa sopra passa sopra no 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 non fare il fumo a me cazzo porca tronca sei merdato anche tu la bomba somica merdati tranne me ora questo aspetta questo piccolino sì dove ha finito il dado due su 1 e 2 e poi questo qua giù che è vicino a vinkman quello che si muove no aspetta si muove di uno verso di te e poi quello dopo fa due e torna sotto manca questo no sei già fatto quello che ti ha smerdato basta a posto il bel signore no questo qui però aspetta uno due tre no che è visto perché ha tre da zedmor a quale questo a quale è fatto allora questo qui galoppante ha fatto tre quindi fa uno e due vai per la situazione di merda ah di io comincio e mi pulisco ma fino a che anche sulla mappa ci sono centomila fantasmi non è un problema basta che questa zona qui non si deve liberare e per ora abbiamo avuto il culo che nessun fantasma è uscito anche perché non escono fuori i portanti diciamo che almeno la prima missione è difficile perderla mettiamola così ma noi noi saremo buoni di cui due sono già chiusi allora zedmor si è pulito ha finito le azioni con lui invece dove è finito è nella macchina non so perché è voluto salire ah si è salito ok vabbè adesso provo a prendere galoppante con via e ti smerdi eh ma si mi riempio per bene no l'ha preso spengler e mette lì anche a lui un flusso collegato quando c'è più flusso un po' è più sparato ah cazzo però allora aspetta questo qua l'avevo preso con zedmor ah si si ok vai ti smerdi ti smerdi così c'è una due spengler ok e poi niente basta allora io non sono più smerdato quindi direi che proverò a prendere il brutto signore che è sopra di me anzi forse si almeno lui non ti smerda quando fai vedere when hit when trapped no 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 non ti smerda allora prima provo a prendere il galoppante cos'è sto asino ragazzi appunto non è a casa la mia ragazza che sta facendo un lavoro un lavoro finisce una cosa ok quindi questo me lo piglio e non smerda nessuno perché l'hai preso si si no attaccagli un cosa accanto il galoppante ah il galoppante ve lo piccino ok vai prenditelo se prima faccio il galoppante e non smerda nessuno allora poi more sto registrando ricordati allora primo te lo prendi poi quest'altro via non lo piglio mancato quindi si muove di uno verso di te e fa così ti passa e ti smerda ok e poi il secondo movimento casuale intanto si fa il movimento si si poi ti metti lo slime passa sopra 6 no 6 va giù vai quindi ti sei smelmata vabbè un altro punto passo di livello boia fai vedere eh si adesso è il controllo tocca tocca a me che io cosa c'ho di brutto ah niente io salto il turno mi pulisco o ti pulisci o ti pulisci o ti pulisci guarda li tengo vitti no dove è andato è cascato a new york per strada eccola viva comunque è inquietante se ti guardi intorno al tavolino sembra passi una macchina da momentà sembra ad essere coglioni io tengo tutto zoomato così non vedo nulla hai visto infatti c'è la stazione di Ghostbuster il palazzo sembra ad essere degli scemi già a mezzo di strada salve signora c'è la quarantena stai dentro cortesemente un metro di distanza anche 5 che qui smerdano allora io ho finito il turno si tira il dado è più perde le azioni e stella a stellina niente portale chiuso si libera un fantasma a testa ma che palle basta madonna santissima tutti no no faccio prima io poi voglio vedere dove mi chiamano esce fuori sei fai vedere un pochino sotto sotto di te va bene bammo li ha ammazzato 8 no 5 spengler quello è arancione e invece questo qui uno cos'è buttato in terra così è il mio 1 io sono in macchina devi contare dove sei te nel posto di guida quindi sei davanti no mi stava facendo casino stavo tirando giù è accanto a me è accanto a stanza perché te sei al posto di guida ah ok uno e due no di uno 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 soltanto appare di uno accanto a te alla tua posizione ah ok lì così quindi questo qua sì quello lì lì mamma mia che scatola è questo che è messo ambilico eh lì ok ho capito che stava di due eh peggio di sì potrebbe andare si è ancora acchiappato un fantasma ma invadiamola allora l'abbiamo acchiappati però si sono liberati quindi scendo con Zedmur e scendo qua e provo a eh dov'è il dado provo a prendere no provo a chiudere il portale ok sull'avanti ma porca mancato emerge un fantasma di livello infimo che va tira eh tira il dado dov'è 5 quindi basta a destra vai poi riprovo ancora mi sa che devi devi cambiare lavoro te a far ghostbuster vai manu allora ah no aspetta devo scendere un altro intanto appunto una scena arte uno uno cioè invece di liberare la città la stiamo infestando ancora di più sta a vedere l'ho detto si perde sta missione è bellissimo ragazzi allora eh ragazzi direbbe vincu c'è un problema ma io devo essere onesto non so se prende ah no tocca a me ancora aspetta ah no sì mi pulisco l'altro giusto scusa l'ho visto ho lasciato lì il coso ma te ne togli uno o te ne togli due quando si pulisce due tutti tutti ti ripulisci però devi spiegare tutte le azioni sono indeciso devo essere onesto perché c'è un'altra probabilità che se lo catturo questo mi smerdo e più un punto esperienza passo di livello eh e passando di livello dovresti prendere un'azione in più a regola no però poi c'è anche un'altra probabilità che poi con questo turno che viene questo minchione si rilibera di nuovo quindi direi che punterò allo smerdarmi vai grandissimo a quale tiro non ho capito al sto galopante ah preso vai lo prendo sì col 3 sì sì al 3 allora mi smerdo passo di livello vai intanto prendilo e te lo metti accanto al flusso allora dov'è che è sto qui assoluto signore e passo di livello e passi di livello quindi ora c'hai allora una volta per turno se è un ghostbuster bellissima eh vabbè giustamente praticamente può cambiare posto sì e ti ci metti te e pigli la merda a te e mi smerdo io eh sì bellissimo bellissimo ci sta se non fossi in culo al mondo sarebbe un'ottima cosa infatti abilità pressoché inutile se vede lui li garba la merda ci fa fang fine o c'è un'altra azione eh no era smerdato dimmi ora ora tocca a me allora chiudere il portale secondo me ora è rischioso perché se no dopo inizieremo a perdere tutti i fantasmi quindi a costo di smerdarsi secondo me almeno uno lo dobbiamo prendere per iniziare alle vampone dalle palle quindi io provo a sparare un flusso protonico su te quanto c'ha Zedmor? eh niente si è appena pulito quindi guarda mi smerdo da solo per te sparo su questo qua su questo galloppante e puoi farlo? si si che posso farlo quello alla mia sinistra però la visione non dicevi che il coso giallo ti toglieva la visione oh cazzo oh cazzo porca troia è vero e allora mi sa che ti devo smerdare Rally bravo ha fatto me la ricorda Rally mutati un attimo se no fa casino stavo per butta no vabbè finito ho finito adesso allora ho fatto tre quindi l'ho preso smerdo smerdo Rally ci ho già pensato di Rally allora ti faccio vedere questo qui praticamente io lo prenderei e lo attaccherei al flusso protonico no? qui mio però lo butto subito nella macchina essendo adesercente quindi prendo un punto esperienza finalmente e questo qui lo ributtiamo nel mondo dei fantasmi ok quindi io mi prendo un punto esperienza e vado a 4 quindi ho finito le mie azioni e tocca al dado tiro la testa stavolta stella stellina niente è uguale allora da me non si libera nulla da Manu si è ovvio andiamo un attimo perché questo allora l'hecto 1 serve a questo quando te li catturi liberali subito ed è ma non ci arrivo 3 quindi da te 1 a distanza 3 io non ce lo metto più su la mia scheda tanto sto facendo tutto il giorno avanti e indietro questa cosa io non l'ho preso io dirette ma io riprovo a chiudere il portale va bene va bene vai grande mette ce n'è uno mi raccomando punta solo al portale perché se no non si fa un cazzo continui presi aspetta non mi sento non mi sento non mi sento per mitra ok se lo metto qua e poi invece con comincio a prenderne un pochino provo a prendere questo qua e come con chi è con ma zedmor c'ha un'azione sola sì perché è smerdata è vero vai ok ecco spengle allora via eccolo io ero smerdato però mi son messo al coso vai via vabbè perché ti sei smerdato appunto quando ho catturato il mio no giusto 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 boia sto prendendo orpi 8 quindi va a destra questo qua dov'è rimane fermo sì rimane fermo allora riprovo ancora un'altra volta sperando che almeno uno se lo portiamo a casa vabbè aspetta l'ho tirato eh non l'hai tirato non l'ho tirato è rimasto lì e vabbè ma allora che coglioni tanto si libera Renly vai tranquillo uno e rimane lì ancora vedi e vabbè è stato è stato molto è stato intenso vai divertiti Manu tutti i tuoi questi fantasmi allora ah una cosa mi diverto io mi diverto a pulirmi ora se ora zedmor no dovesse cambiare bersaglio e non tira più sul portale lo perdi quello che c'è sopra lui è ormai attaccato al portale ok io puliscimi ti pulisco io ti pulisco e ciao ciao ma per pulire bisogna star di fianco sì allora io ti pulisco vai levatelo ah quindi passo di livello e vediamo cosa dice una volta per turno puoi rimuovere uno slime da te stesso per free boia for free buonissimo cazzo lui è l'anti smerdatore poi il port potrei sparare al portale perché comunque lo vedo tracciando una linea da un qualsiasi angolo lo vedo spara al portale io ci provo e dai cazzo di buddha però vai esce un fantasma esce ah aspetta devi tirarlo te proprio sicuro di questa 5 si unisce quindi viene fuori lo grosso dov'è 5 dal portale ah ok quando si uniscono loro due vanno via praticamente vengono esatto vengono tolti e quando vengono tolti mi sembra che arrivano si sempre nel mondo dei monstri e viene fuori il 2 ma penso ecco il 2 ecco ci mancava solo vabbè adesso sono meno almeno ah quello non lo metto in dubbio fine tiriamo il dado per i portali almeno si ride ah io non posso perdere nulla tondo no niente sempre ci vogliono morti via praticamente non abbiamo nulla ma io non riesco veramente a capire da dove guardate il tondo qui sopra eh ma cosa dove lo capite qua qui vedici un simbolino c'è un più e qui ci sono delle ondine su portali no qui non c'è nulla io non vedo nulla qui sotto sotto closed io qua vedo when rolling the event dai è quello e poi sotto c'è scritto open e closed ok quello lì cosa vuol dire come faccio a capire i segni quali sono in base al risultato perché tiri questo dado qui quello dei portali e a seconda del simbolo che esce sul sul dado guardi qual è il portale con quel simbolo sulla mappa se c'è se non c'è si perde un fantasma a testa ah sono i simboli lì l'avevo capito sì sì sono i simboli su portali ho capito quindi per ora non c'è perso nulla vai tocca a te buon allora provo a chiudere quel portale prendo il dadino aspetta due flus ok due punti lui era zero non è ancora pesato ah comunque questa partita si potrebbe anche finire semplicemente lasciando portali per chiuderli no e infatti l'ho letto su un forum il problema è uno che le mappe sono tutte collegate e i punti esperienza rimangono facendo così faresti pochi punti esperienza e quando vai nelle missioni dopo che ti serve ad essere più forte poi lo pigli in culo io volevo chiuderli tipo il più possibile poi lasciarne uno perché ne escono di meno qualche fantasma va preso sarebbe meglio provare a prenderlo io questi problemi non li ho basta che mi smerdo io provo a prendere il duo infernale adesso con quattro su giusto dove sei te questo qui quindi uno due tre si si muove di uno contro se ok di uno così anzi viene e di uno sul daz e a destra a destra a destra poi il nostro Carlos Spangler ok provo a prendere questo qua vai almeno mi rismerdi grazie smerdi vabbè ma te ti pulisci a gratis sì ora quello è vero infatti vai è nada mancato quindi viene verso di ah verso di uno no è diverso di ti è sbagliato ho sbagliato un barale e prova a prendere questo qua e vabbè prendo un punto vediamo dove si muove tira il dado perché perché lui prende un punto con l'uno si prende un punto di due verso di su questi via non si muovono più ah no niente sta qui dove vai è vero è vero ok allora si riverta a vinkman o vankman questo è un'ottima un'ottima opportunità allora a che apparella se gioia a noi via altro che ingo's bar per ora l'unico che l'ha preso uno sono io cioè roba roba disumana abilità quella di mia che ti sposto se te comunque sei in una zona cioè siamo entrambi nella zona non funziona perché tanto adiacente se è adiacente a me io sono smerdato ma se ora io sono qui e abbatto questo che pirelli cioè la vita non serve tanto non serve a niente esatto ok capito allora quello lì è tutti i mostri ok allora io provo a fare così allora io provo a catturare il gallopante qui accanto al rally vai crediamo in te Peter non poteva poteva vengare quello te non sai perché te lo piglio mi smerdo vabbè questo lo mettiamo qui e poi si su quest'altro quindi ti smerdi te mi smerdo appunto oh tutti due prenditeli e li colleghi vai da lì corri subito alla macchina a parte non puoi non posso te nel prossimo turno devi fare una volata o te la devo portare io in retromarcia ma te c'è il problema fondamentale dell'ora sicuramente esce il dato brutto è normale perché è quello il casino perché c'è pochi portali ce ne dovrebbe il problema è che quando inizia a chiudere troppi poi i fantasmi scappano capito il problema è quello si liberano molto più fantasmi ho catturato i due così almeno uno ce l'ho di base cioè uno dice chiudi i portali ne scandi meno no ne scandi più a me mi sembra quadrato no eh alla ne perdi uno vai di poi usciva il vento però vabbè uno comunque lo perdi devo tirare il suo per vedere dove esce 7 in bassa sinistra sul portale sul portale giusto giusto accanto a RL io ero smerdato no no anche perché ti pulisce a gratis almeno vai vai divertiti e no ora c'è quello dei mostri cos'è già tirato no no è già tirato scusa quando l'hai fatto scusa cosa cosa non hai fatto il turno ora l'ha fatto Manu sei già tirato il dado dei mostri non l'hai fatto se ah cazzo è vero tocca a me è buono eh sì vabbè è un gioio con l'azione gratis guarda ti faccio un bel regalo monto un macchina con l'azione gratis poi faccio uno due e tre vai ti metto anche sotto e con scendi e puliscimi però no se scendo è sempre un'azione gratis perché sali e scende quindi scendo qui perché non puoi scendere dal tubo di scappamento scendo via e ti pulisco vai quindi mi faccio un altro punto di esperienza sì alla prossima se lo catturo subito ma guarda che azione sto rei eh catture fantasmi sposta l'ecto one e ti pulisce cioè il numero uno a te guarda così al prossimo turno se lo piglio subito mi smerito però l'azione l'azione del portale si è già fatta perché ci sarei dimentiati di me vabbè quindi se è già fatta non se li fa quindi vai va da rally eh no fine fine turno eh ma si è già fatta si è già fatta quella del portale si è sbagliato si è fatto prima allora vado a z di muovere provo a prendere il doppio vai pigliare il doppio dai allora ti rammanata non si è fatto così lo sapevo io non l'hai preso nemmeno non l'hai preso quindi si muove di uno verso di lui e uno casuale e allora ma ti diverti no l'ho tirato a caso vai ma non era viso in prima vai prova a prenderlo no era qui ha fatto uno verso di lui e uno giù mi sembrava che era di l'altro sul portale non è sull'angolo vai vai attaccagli un cosa quando lo colpisci eh sì intanto lo perdo mannaggia si muove verso di uno si di lui si muove verso non è questo allora no è questo qui hai detto quello due no 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 non l'hai preso che fai come no ce ne vuole due per prenderlo è più forte mannaggia e si muove di uno contro di sé quindi va va lì sul portale mettergli accanto a un flusso lì sulla mappa cioè scusami fammi capire una cosa lui quindi si muove quando lo becco sì si muove di una verso di te quando lo becchi lui per cosa tu faccia lui per catturarlo ci vuole due flussi il marinaio gigante ce ne vuole dieci forca troia è normale servono due concentrati sì due a sparargli addosso io salgo in macchina e mi muovo con la macchinina ciao ragazzi no 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 che muovi che fai sei scemo l'ho portata lì per scari a fantasmi che fai aspetta dai prova a prendere con lui quello almeno non ti smerdi vai questo sì smerdi la macchinina ma che fa il furbo mancato quindi muovi il furbo succede questo te lo meriti cinque cinque di due in diagonale quindi fa no scusa uno e smerda che smiga stavo per dire qualcosa che non andava detto e smerda luvumba che non andava detto che era meglio un d dici non l'ho detto non l'ho sentito allora poi stavo perdendo ma non l'ho detto già siamo partiti da 30 euro al giorno allora io direi che salgo qui sulla macchina allora prima di salire ok sali poi scarichi scarico sì quindi sto rimettili nel mondo fantasmi ti piglio un punto esperienza quindi vado a sette punti ok ora puoi muovere la macchina stessi a bordo nel posto di guida qui ma io voglio fare un'altra cosa ah lo riscende io lo riscende più a questo mi smerda ma allora era inutile salire in macchina cioè poi cari a fantasmi anche da fuori eh sì no ok sì sì vabbè allora fai conto che non ci sono sali eh vabbè quindi uso altre azioni per sparare su questo che se lo metti smerdi te e io appunto tanto vabbè finché ci so io non c'è problema no mancato e si muovi di due casuale cinque in basso a destra di due ok quindi va a me non rompe oglione a nessuna vai ok che tocca a me allora io potrei o provo questo qui però se sparo a questo qui al duo poi mi viene addosso e mi smerda però il problema è che mi smerda subito sì però non posso fare ah mi pulisco subito cazzo è vero allora proviamo dai sparo al duo tanto anche se ok colpito quindi uno gliel'attacco poi vabbè mi smerda e me lo levo vai muovilo di uno così è moto e provo a riprenderlo spara spara dai sì dai vaffanculo sì preso quindi mi faccio due punti esperienza Andre ti non hai contato il problema cosa che che non lo scarichi esatto tu non lo scarichi ora esce contiamo nel portale contiamo nel portale aspetta lo so le conti sto dettaglio contiamo nel portale allora siccome te conti nel portale te ti rai il dato carica futtana ci pensavo mia che poi anche visto paga sempre uno sì sì costano sempre pagano sempre uno ok dai porca la puttana cioè paga due via per i flussi dove è questo vi e dai apri una volta spero del vento perfetto andate a lavorare fa vedere dove va questo particolare dei portali non l'avevo capito all'inizio sono sincero sei va giù di uno quindi sotto di me vabbè rispetto a dove era all'inizio dai l'avevo preso puttanacce vai vai tira e ti dicevo tira su questo invece no tira di là ma quello non c'ho visuale no se questo vi andava via non potevi tirare comunque perché sennò perdevi il flusso allora io con Zed qua posso muovermi mentre sono in mentre ho lui collegato vero mentre ho sì sì muoviti basta che non stai lontani dalla visuale 2 cosa no non è smerdato Zedmore ti metto qua si è smerdato ah è qui le federazioni sì no aspetta anzi no no mi mi pulisco mi pulisco volevo pulirmi con lui vai ti levi questo ah sì adesso che palle sto slime era meglio punti feriti tanto non ha senso prenderli se non ho guardato ora faremo gioco di squadra tranquillo ok ok tocca a te vai non stava spank è fatto si è pulito si è spulito si è pulito tutti che si pulisco mi pulisco io io mi muovo via quindi faccio due uso un punto azione mi muovo qui e poi provo a sparare via vai grande così si acciuffa prendilo acciuffo acciuffo oh sei grande sei grande se te non sbagli lo so subito mettici il flusso vai accanto a lui il tuo e si leva di ulo tocca a me dai dado dai dado dai dado si ma lo devi far subito eh lo so ma perché sono con uno scusate ragazzi ho sperato solo una volta maledetto per giorno maledetto e non l'ho preso allora si muove di uno verso di me di uno verso di te quindi però me lo levo mi insacchere me lo levo però aspetta il flusso va di là c'era c'era la cosa del io ti posso spostare lo vuoi fare prenderti te cosa vabbè è più esperienza allora spostiamoci vai mi fa il vero a me vai te vai il mio posto sto mettendo il punto esperienza vai fatto ok così ora mi puoi anche pulire anche ti è in punto guardalo così io proverò anche a dispararci però l'hami paura è di prenderlo forse è meglio lasciarlo così lo sai no infatti si mi pulisci e non mi smerdo cazzo è intelligente e ha preso il punto esperienza bravo vedi e lo pigli pure se ti pulisco ti pulisco lo piglio pure io no ma te sei il meglio ma guarda le combinazioni vedi 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 a giocare Warhammer cosa significa cioè lo sai a me si chiamano questi bug nelle regole barbatrucco si chiamano quindi c'ho un'altazione si no no basta quanto vuoi te ti pulisci gratis a me no 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 come no 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 te ti pulisci gratis ah from yourself va a f*** no no allora non ti pulisco allora non ti pulisco come mi pulisco a moda di non ti permetti da guarda di nada oh non è mai uscito le ondine qui mai vabbè non è mai uscito nulla se per questo prova a prendere il duo il duo della notte lì dai Winston l'ho preso vai c'è il problema che si pone allora prova a prendere aspetta 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 se no ce li dimentichiamo metti il fantasma dalla tua parte e li metti i due flussi accanto se no ce li dimentichiamo eh se effettivamente ti conviene prendere direttamente questo smerdarti ehm vai provo il galoppante oh dai ti prego se lo fisi sei in grande si ma anche quello si l'ho fatto apposta esatto perché anche se risulta fuori e questa scena una grandissima vabbè ok vada a spendere e ti sei smerdato vai ci sta ci sta si giusto aspetta che ora ora intorno al campo vi dico sbaster bravi questi sono i veri sbaster e adesso con spengli 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 adesso scusate ma io salgo in macchina basta che non lo sposti troppo perché 1 2 3 ci rivolini tutto il piano ero qua 1 2 no ci rivolini tutto il piano ma lui c'era due c'era due 4 sono davvero 5 è capito uno si libera e poi scendo si scendo qua questo qui cos'è sta cosa arancione è un ostacolo non ci può passare lì ok quindi davanti non posso scendere immagino davanti no se è sbagliato finora poi scende solo da lati da quattro lati ok che se noi sono fatti così quindi 1 2 no si no dal di qua non posso comunque no no stavo vedendo niente cosa dal di qua non posso prendere questo qua 1 2 no si perché praticamente lo vedi perché il portale è chiuso non c'è più quindi fai praticamente conti 1 2 3 c'è sta linea gialla che non so cos'è la linea gialla è praticamente ti blocci puoi passare attraverso però ti blocca la visuale no io lo vedo comunque perché di qua però ora lo vedi perché se ti tiri una linea immaginaria da qui fino a qua lo vedi si si lo vedi lo vedi allora gli sparo in la bocca cosa è incazzato spengler no è dove andava la sua quindi si muove uno verso di sé è il dado ah si è il dado è il dado cosa dice 6 è il dado è uno giù torna a casa adesso ovviamente va bene prego signor signori mi hai rovinato tutto il piano è andato ora bisogna ciò fare il fantasma per farti a corsa appunto quadrato aspetta che deve uscire deve uscire il mio non lo posso ciò fare quello è il problema ed esce perché ti di cosa ti di ma cattina aspetta aspetta e non ci c'ho e non ci c'ho ah è vero mannaggia io l'ho già andato ragazzi aspetta che non metto chiesa e non ci c'ho prego ti vorrei di una osa ti vorrei di una osa e ce l'è te zedmor ci sanno no basta che vi chiudo ma porca c'è solo single play c'è solo te Winston ce l'è te si pone il problema fondamentale adesso cosa cazzo faccio io io la ciufferei poi proverei ad andare verso la macchina e ti seguo poi provi a prendere questo qua e fai come ho fatto io capito devi fare come ho fatto io per prenderli ma mi smerda voglio dire quindi si no ma quello il duo non ti può smerdare se mi passa davanti si ah se ti passa davanti si ovvio c'è il problema che se poi lo piglio e manco a prendere questo si libera vabbè ma comunque io ti pulisco nel mio vabbè in qualche maniera si fa adeo e lo lecomodo che si fa hai rovinato tutto ma no che c'entro io dovevi farlo comunque si si c'entri ah hai preso l'ho preso eh si ho visto ora devo catturare altro altro che hai visto allora ora facciamo una cosa questo l'hai catturato te attaccaci il flusso e tutte e due i tuoi erano si 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 ok vai te le metto io e quello lì portalo via quello che era lì e provo a catturare anche l'altro scemo avanti a me presto ma poi c'è cazzo boia capa fantasmi incazzati neri vai t'ho già messo il pirulino giù metticelo accanto tanto era si libera quindi che secco vai allora tocca a me tocca a me anch'io o provo a prendere qualcosa uno da uno ma lì c'è la barriera no potrei fare uno no lo vede due e spara a questo proviamo a dire nulla si fanno catturare lì però almeno se le ha male che va ma quando ti si è spostato tre preso perché ti si è spostato è perché non ci arrivavo fin lì è una speranza no ah ma no è questo qua è il suo quello giallo allora speranza che escano le ondine vai speriamo di vai tira tira per il portale speriamo un bene almeno una volta no ma vai a fare il culo vai allora ciascuno di noi deve levare quello del livello più basso che ha voilà mi va anche bene io tiro questo vaffanculo però lì però viene a casa con me uno quindi 10 secco Q2 sulla macchina quindi dove esce da qua immagino sei dentro macchina te? no sarebbe sulla macchina lì lì sì uno più su vai allora tiro io un attimino che ho salvato ok allora dai si era preso un sacco di roba 5 questa regola la odio te lo dio 5 quindi va qui allora questa regola vi la odio vediamo io 3 quindi sopra di me allora io direi che adesso Renly siccome è quello che ha fatto che è fuggito con la macchina salita torna con la macchina scarica il suo certo allora quello è il mio piano e torna indietro assolutamente allora intanto partiamo con con Zedmour con Zedmour scarico il tipo ok quindi ti prendi due punti di spedenza e il fantasma lo butti nel suo mondo quindi faccio uno e due arriva a quattro ok e spazio il bugalù adesso finisco qua e prendo questo i fratelli scolari e col secondo vedi di venita a me o col secondo entro in macchina e faccio uno due due tre quattro cinque e non c'è la no e gira la no cinque e no non ti basta vai vai di là vado ah sei qua vado qua ok e vabbè scendo dalla macchina e scendo qui ok ora c'è Egon poi spengler spengler proverà a prendere il due infernale vai molto molto inespiriti come hanno fatto a salvare il mondo sti allora vai uno gliele messo c'è un motivo si rapiano i figlioli e si muove quando uno verso di te di uno contro te ok vai ritira no basta non tiro mi muovo basta che si è a portata di uno qua si ok sempre a portata bene vai Manu vai divertiti allora divertiti vista la posizione sfortunata della macchina non è vero potrei fare una cosa cazzo hai di fianco no ah perché non puoi salire non è che io so qui eh io so il rosso eh lo so ma non puoi scaricarlo direttamente ah no tanto l'azione dovresti spaccarla comunque infatti infatti io ho avuto l'idea geniale io do il fantasma a stensi con un'assunzione comunque si si ok meglio che non fa nulla ok quindi me lo prendo me lo prendo però con i tuoi flussi protonici attaccati vai e poi con la trazione tiro sul galoppante che male che va mi smerda esatto ip1 punto esperienza ti smerda eh no no non mi smerda non l'ho preso vabbè bisogna vedere da dove cazzo tiro aspetta 5 c'è una buona le tattiche che eri giovane vai vai via vado vivo ok quindi tocca a me scaricalo tocca a me che lo scario e ti prendi punti esperienza si prendi punti 2 però l'ho scaricato eh poi fa più nel livello 50 al prossimo punto esperienza che faccio passo di vivere un'altra volta e pigli un'azione in più dopo inizia a essere buono eh sì allora almeno questo si è ripulito quindi io un'azione l'ho fatta scaricando e la seconda azione qualsiasi prova a prendere sta merda tanto anche se mi sacchero oppure sposto la macchina verso Spengler così si piglia quello da 2 ah guarda in questo modo se ti insaccheri mi sposta al posto su o prova a prenderlo davvero però tanto ho paura e dopo riscappi o se no monte in macchina monte in macchina facciamo una cosa monte in macchina e ci si inizia a muovere verso il portale facciamo allora 1 2 3 4 5 e poi la gira vabbè ti passare qui e 6 si inizia a muovere la macchina verso di va no più che altro mettila lì così il 2 infernale se lo cattura subito ah è vero la diretta e scendo qui vai almeno so a portata di 20 proprio in bocca sì ma tanto io mi pulisco non è quello lì il problema ok ti abbiamo portato via ma vattela a prenderne il culo perché non ce l'abbiamo era accanto a 20 shell buono io provo a prendere il duo infernalo così sai che è accanto alla macchina vabbè il regalo t'ho fatto sì è da lì questo lo buttiamo subito in macchina grazie signore fuori dalle balle vado butto là ho piaci due punti esperienze due punti esperienze aspetta chi è lui Spencer Spengler Spengler no no è Spengler ma è uguale tanto sono i suoi sì sì e scarico e passa però aspetta aspetta hai sparato con Spengler sì uno dei cosi protonici però era di Winston quindi 1 e 1 guadagnano perché 1 era viola il primo corso ma perché sono tu su hai sbagliato te allora era Spengler però ho sbagliato mettere il bagaglio ok e ok e poi con Zedmur provo a prendere no lì c'è quello oh oh o t'avvicini e provo a prendere provo a prendere Galapagos Galapagos le isole le isole vai preso vai aspetta che prima di metterlo provo a prendere anche questo qua subito non te peraltro via ti hai messo la macchina vai è mai smerdato tanto mi pulisco da solo buono adesso me li metto di fianco ci metti il cosino vai vai divertiti si sono scatenati i due eh oh prima un po' parta adesso quello lo metto in dubbio sto pensando a cosa cazzo fare allora e mi muovo allora mi muovo di due di qua e di due di qua vai ok cosa stai facendo sto sistemando dai dai che ci siamo manca solo quel portale lascia Bugaloo dove sono Bugaloo Bugaloo allora ci inzaccheriamo cosa ah si tanto il problema è che se lo fai vabbè dai piglio sto vi piglio velo piccino vabbè eccolo è un po' Zoranley sei disconnesso come no sei disconnesso dice Rally disconnected no puttana vigliacca aspettiamo che l'interno è tanto salvo è finito non è che mi cancella tutto vero no almeno che mi cancella me la disca speriamo di notte almeno sei al concetto di qualcun altro non abbandoni la partita vedi hai nominato le Galapagos e la maledizione di Barba Nera attacco il titolo almeno lui è crashato seriamente non è come qualcun altro che abbandona la partita per andare capito oh te quella ossa ti è rimasta a gola no è rimasta sì il veleno davvero allora vai ci sono via che poi la serata lì lo dici pure a scherzo non sentivo più è imposto Moritz sì ho preso pure a scherzo poi dopo un po' lo vedo è disconnesso c'era pure rionciato e fa no ma ma guarda che non è crashato è su Ayrton dai vabbè non c'ho parole quando succedono ste ose accortellerei per quello allora guarda che dici è l'unica volta è successo vuoi ridere ho sparato a questo qui non l'ho preso quindi si muove verso di me mi insacchera e poi ovviamente va di va quindi mi ha insaccherato però me lo levo così la situazione è gratis sì ok e non piglio l'esperienza però e questo era questo era il primo attacco il problema è che il secondo o muovo la macchina in avanti e sarebbe la meglio che tanto anche se lo piglio a lui poi ci scappa quindi monto e faccio 1 2 3 4 avviciniamola il più possibile al portale così si chiude e io scendo vai sur p7 tiriamo il coso il dado delle merde la discordia e una volta ma che cosa fa perchè rimbarza perchè il re oh è ondina ondina cosa vabbè non so non so se ci conviene ma chi è che lo fa rimbarzare così io non sono sicuramente e te che lo muovi aspetta ragazzi ma che cosa fate ci sono i fantasmi io quando lo lascio vedo che è rosso quando rimbarsa quindi aspetta faccio ma che cazzo fa no rl rl lo aspetti un po' oddio come come me è stato per tirare il dado sarebbe il migliore fallo fa così la devi spingere se spingete r l'ho scoperto vi fa il saltino oh bene ora perdiamo un fantasma te perdi un fantasma si ha fatto il furbo eh allora allora fa vedere dove guarda adesso lo muovo così forse sarebbe stato anche peggio tre tre eeeh questo qua era di lui com'è che ha fatto R è vero forse sarebbe meglio quindi va qua lui a parte non è che ruota più di tanto no devi cliccare più di più volte cliccalo più volte ah eeeh no quello no vai meglio tirare eh ok quello è andato via se funzionava cioè almeno ma aspetta che cazzo ah l'ho preso di conservo cazzo vi siete andati lontani all'iluce non arriverò mai a prenderli eh vabbè parti a corsa corsa eh due notte non ho fatto nulla eeeh tutto com'è sì ok vado ma qui c'è un bugalù con eh no vado con Zedmur e provo a prendere di nuovo questo qua eh però cazzo non volevo sberdarmi no mi sposto ah scusa se prendi quest'altra velo più avanti no esatto mi sposto in avanti e prendo questo qua vai secondo me poi il gioco ce l'ha le sue meccaniche il suo perché eh eh niente quindi si muove di due casualmente allora io quanto è fatto due l'unica cavolata che ci trovo nel gioco però sicuramente è anche un fatto di meccaniche quindi magari non mi piace a me ma torna se lo metti nella trappola ma perché lo devi andare a scarierare nella macchina sì ora ovvio la macchina ti fa da portale come la quella che hanno loro nel palazzo no la griglia e lo rimanda nella sua dimensione quello siamo tutti d'accordo però cioè così è troppo facile che ti scappino nella io vorrei anche io sottolineare una cosa che sto notando che la cosa un po' l'unica cosa un po' triste che ho notato è che i fantasmi non sono poi così vivi cioè nel senso o vengono catturati o se no scappano ah che non si muovono non hanno intelligenza che abbiano un'intelligenza dato al gioco sarebbe carino quello è vero però la prima missione fa così guardate che casino nella seconda nella seconda dice che se ti capita nel tiro del portale vento un portale chiuso ok un fantasma dal mondo degli spiriti emerge da ogni da ogni ghostbuster in linea d'aria con uno più portali chiusi cioè capito quindi se siamo due o tre non ci devi stare nelle vicinanze perché se no iniziano a spawnare un casino è ancora più difficile però almeno quelli che c'hai nella trappola non ti scappano quelli presi rimangono almeno quello ok dai ti è finita tutte le azioni io no mi manca spengler niente con spengler invece provo a prendere questo qua questo qua non lo vedo si no lo vedi no non lo vedi non lo vedi ma come lo pigli non si può muovere come si può muovere se non lo colpisci non si muove no l'arancione scusa all'inverso esatto torna lì l'arancione vuol dire che non ti ci puoi muovere però ci puoi tirare attraverso ah ok ah allora provo a prendere questo questo qua prima aspetta aspetta non faccio così ma cos'è tirarlo così no era con R era con R si l'hai preso però non lo fa più mai più è il tiro del bischio ve lo lead no era con R perché tu lo prendi con R fai così vabbè ma cos'è dai tirava il mago sirvan così e barava infatti preso tutto e due ah preso ah ok loro quelli piccoli col tre o più magari si mi ero scordato per una volta si tirava sirvan e pulava soldi alla gente attenzione se no finisce sotto finisce sotto la macchina poi che le va a prendere oh passa il camion li sbag ci metti i flussi attaccati vai ok ok e via sta a me quindi sta a te sta a te avvicinatevi quella macchina che se no mi avvicino io il problema è che è uguale vabbè comunque mi avvicino io io sono vele che guida la macchina ormai che sono impavido oh è così anche nei firme è sempre re che guida la macchina quindi siccome sono impavido direi che prima di fine partita ma quanto si vuole il bugalù il bugalù tre addirittura per prenderlo quindi siccome sono impavido direi che per fine partita va preso il bugalù no tre no quattro più niente e si muove di uno verso di te no si muove di due più uno in una zona casuale il bugalù è questo qui muove in one space si no c'è scritto ah è one hit cazzo è vero si muove di due verso di te si più una in casuale è vero quindi mi smerda ti smerda passa oltre quindi io passo al tre e ti smerda vai si hai un'azione in più e poi si muove di uno in casuale quindi dai che ora ti pulisco due e va su si nasconde allora tocca a me ti pulisco adesso ho un'azione in più si io ti pulisco e ma aspetta ah si vabbè ti pulisco dalla melma poi monto in macchina e mi sono preso il punto esperienza monto in macchina e faccio uno due tre e quattro va bene sarebbe meglio se andassi in uno ancora in quattro ma a chi la devo portare ah a Winston la devo portare a tutte e due in realtà allora quattro e cinque quindi in mezzo lì perfetto ok scendovi vai vai turno dei mostri tiriamo guarda cosa succede dai no no cazzo ne perdi uno è quello che c'avevi ciao eh tutte e due le perdo si uno per uno aspetta vediamo dove vanno il primo prima va su uno quindi in alto a sinistra e l'altro su tre quindi in alto a destra qua vai allora io per scaricare quando uso un'azione vuol dire che posso anche muovermi nello scaricare no 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 muoversi in azione scaricare un'altra si purtroppo ah ok allora allora con questo qua niente manu il portale è tutto tuo scarico ah vai lì e scarichi ok però cosa scarica che non c'ha nulla questo qua ah un loco mi ha visto poi vai ok e quindi mi prendo un puntino e faccio finalmente il livello ah io tra l'altro prima non ho usato l'azione gratis per pulirmi vabbè la uso dopo cioè facciamo te l'ho usata una volta per turno tu puoi rirollare se ho fallito un proton roll posso dirti dare ah visto quando le manca una volta per turno poi ritirà tutti e due hanno un buon potere al secondo il primo non è un gran che però il secondo sì quindi con lui è fatto lui sono già al terzo tiro con Zed mur allora vediamo se riesco a prenderlo vabbè l'hai preso dai non l'ho fatta apposta e ti smerdi e mi smerdo oh che palle ma io quindi adesso posso tirare ancora e ah è un'attazione due azioni anche se mi smerdo ah no no se sei smerdato no hai perso un'azione adesso non sono smerdato adesso mi smerda è finito il turno puttana vigliacca potevo muovermi allora se non è stato tocca a te Manu se chiude il portale si vince la domanda è questa eh chiude il portale ah è lì no no eh cosa faccio chiude il portale si chiude il portale almeno si vince la missione non ha senso era mettersi a sparare su tanto di primaria importanza è quello tanto qui i fantasmi ci scappano allora quindi quasi è quasi finito ho tre azioni tre si la prima nulla ok e quindi esce fuori un mostro se ah cazzo porca te è vero se lo manchi se lo manchi si tira il dado per vedere dove ed è ovviamente quello più piccolino possibile è due quindi in alto in alto chiude sto cazzo di Martiale Gesù vai dove esce stui disistante due sopra di lui quindi non può e va uno sopra tra poi ecco va come non si uniscono ah è vero no si uniscono puttanacce è vero un po' che esco di loro ma lo devi chiudere non devi tirare fuori il diavolo ti dai lì adesso adesso non tirare fuori un altro viene fuori il no attaccasci un coso ma scuola quante volte hai tirato hai tirato tre volte si c'ho attrazione ah perché hai tre tire adesso cazzo dove ce l'hai flussi ah ce le arriva a due dei tuoi te le rendo tiè ah sembrano stavi le rondelline velle di da mangiare come siamo le patatine velle di cipolla anelli di cipolla anelli di cipolla anche allora vai sei lì tocca a me vado a cordan vado a cordan ora li metto sotto la macchina fantasma se posso se posso farla la macchina lasciamo la vita tanto mi sembra che non serva nemmeno più di tanto qua si va si provo fai vedere un po' o spara a whiston e mi piglio 30 euro io quant'è al giorno no 30 euro l'ora ma cos'è al giorno allora facciamo così tira fino allora alla macchina non posso sparare posso sparare questo l'unica cosa il bugadoop il problema è che lui ce ne vuole tre il fatto è che noi in tre potevamo farlo con lo spang aspetta aspetta scusa perché faccio uno due e poi sparare al portale ah 7 e 4 perché tu hai anche tu hai un tiro in più dai gesù non sei a 4 come fai a fare il terzo tiro scusa no io ho fatto uno e due mi sono mosso sostanza e uno ho sparato al portale no cazzo uno due tre non posso e allora faccio e poi comunque non è un'altra azione vai qui cioè non capisco ti stai muovendo di tre volte come fai no io ero qui in diagonale uno due e la prima azione e con la seconda faccio le due ah iiii ok non ci pensavo però che era troppo a distanza vabbè fine turno tiriamo questo beh fai di corre Zedmour lo perderà di nuovo eh vabbè questo è quello che è attivo Si muovono tutti No, non lo perdi Però si muovono tutti Quelli a distanza 3 da qualcuno Quindi prima tiriamo questo qui accanto a Egon Tutti Quindi prima quello accanto a Egon Tiriamo il dado Non si muove questo forse 8 Quindi ti smerda E passa 8 Quindi fa 1 e 2 Vai, ti ha smerdato Prenditi uno con Egon È di merda Poi questo qua su sopra a Winston Sempre il galoppante Fa 3 Quindi 1 e 2 No, ah no, andrebbe in diagonale Quindi niente, rimane qui Poi questo qui Bugaloo Che è più vicino a Me o Manu Quindi tiriamo il dado 2 e va su 2 e va su Non si unirà mica Così Così Ah no Ah no, si è fatta una puttanata Cioè? Perché praticamente dice che quando esce quel dado Tutti i fantasmi si muovono di uno verso quello più vicino No? Tutti automaticamente Tutti automaticamente si tira il dado solo se c'è da fare lo spareggio Quindi praticamente, vabbè, questo ti avrebbe insaccherato Questo da qui sarebbe venuto qui Ok Quindi il Bugaloo dov'era? Qui? Dov'era? Ah, era qua Quindi viene di uno verso di me Poi questo viene di uno verso di qua Tu sei rovinato, Stan Questo mi smerda Vai, vai Vai Mi ci metto io al posto tuo, vai tranquillo Eh, ma non lo puoi far fuori turno? Tranquillo, biondo Ritorno con due azioni E pio un punto Eh, sì Ti pigli, ovviamente, se ti smerda, sì La grande avanzata verso il livello 4 agli inizi Aiale Ok, diciamo che si può iniziare Tocca a Rally Tocca a me E faccio partire il tempo C'è un piccolissimo problema tecnico che io non ho più evitato a supportare E due Lo faccio qua Sì E me lo scarico quello che ha Vai, pigli un punto esperienza E finalmente anche ti passi al livello 2 Oh, bene E questo qua? Cosa che fa? No, cosa hai fatto? Scusa Hai fatto uno per avvicinarti e due per scaricare? Ma perché ce l'ho Questo qua Perché è cosato lui? Eh, perché c'aveva lo slime addosso Non ce l'hai mai tolto Puttana Allora, niente Mi avvicino e basta E non puoi scaricarlo Quindi riprendilo Anzi No, vabbè Ma allora Ma che cazzo Vabbè Ormai l'ho fatto Eh, cos'ha? Devi riprendere il fantasma Non l'avevo visto Eh, vabbè E cominci con Spangler Oh, quindi nessuno Ha creato i due due Oh, no E nulla Sì, ora tanto si è finito E con Spangler uguale Lo puoi catturare Però poi non può fare nient'altro No, mi pulisco Vai, ok Vai, Manu Allora E siccome non ho agitato su nulla Faccio così E tanto c'è uno sbotto di azioni Vai E poi sparo Vai, spara Tanto c'hai tre azioni Te Eh no, due Vai, sei vinto Praticamente con l'ultimo colpo È, piglio due punti Quindi Sì, piglio due punti esperienza Chiudi il portale Questo qui te lo riprendi Sì E la prima missione si è vinta Ora si salva Così la prossima volta che si gioca Eh, i punti esperienza rimangono Ok? Quindi levatevi tutti quanti gli slime Eh, perché tanto la partita è vinta Leviamoci tutti quanti I cosi I fantasmi catturati Insomma Leviamo tutto completamente Bravo Ho fatto il danno Mettiamolo qui Che poi tanto cambiano, eh Da missione a missione Quindi ci sta che nella prossima Non saranno nemmeno questi Comunque Diciamo che Come Ghostbuster A catturare i fantasmi Si è fatto schifo Abbastanza Molto Io sono stato bravissimo Sono quasi a livello 4 Però chiude portali Va bene Anche perché Allora nella prossima missione Quando praticamente Compare il portale chiuso Si è detto che Da qualsiasi portale Che sia Meno a linea di vista Da un Ghostbuster Esce un fantasma Quindi non bisogna Conviare sempre Sparare e scappare Sparare e scappare No? Dal portale Poi Nella terza Conta il numero Dei portali chiusi Ah hai visto? Eh Praticamente Emergono tanti fantasmi Dal mondo dei fantasmi Quanti i portali chiusi From the Ghostbuster Near us to the roll gate Ah ok Dal Ghostbuster Più vicino Al portale tirato Portale Quello insomma Il simbolo Lo giri Guardi qual'era Si si Poi ogni Ghostbuster Randomicamente Cambia posto Con un altro Ghostbuster Ah proprio c'è un teletrasporto Via Ah invece L'ultima missione Perché c'è Slimer Ogni Ghostbuster In linea di vista Con un portale Viene smerdato Direttamente Vabbè Vabbè Perfetto Per la mia Oh comunque Anche se si è patito Le pene dell'inferno Direi che ci si è fatta Siamo arrivati Siamo arrivati GG GG